E allora pronti con un grandissimo applauso, 3, 2, 1, inizia la ventiquattresima edizione della Fiera della Corrente di Vigasio. Dopo un fermo di due anni ci ritroviamo qui tutti insieme pronti a festeggiare e a mangiare la nostra polenta. Qual è il programma? Quali sono le novità per quest'anno? Le novità di quest'anno sono molteplici, spaziamo da eventi musicali a commedie teatrali, a balli latinoamericani e al Festival Nazionale del Campo. Vi siete spostati in Brasile, abbiamo parlato del Sogno Salentino, ci racconti un po' di queste idee di novità che sono state appunto portate in questo percorso. Sogno Salentino fa parte del programma Cucine Regionali, per cui quest'anno abbiamo una cucina pugliese naturalmente, che farà dei prodotti tipici della Puglia abbinati con la nostra polenta. L'amministrazione comunale di Vigasio ha fatto un gemellaggio, chiamiamolo così gemellaggio, con un comune del Brasile dove viene realizzata la più grossa fiera della polenta del Brasile. Valorizzare il nostro territorio richiede comunque un lavoro costante e qui alla ventiquattresima edizione della fiera della polenta. Stiamo valorizzando quello che è un prodotto agricolo che nasce proprio nel nostro territorio, qui a Vigasio. Sì, poi c'è un lavoro straordinario di centinaia di volontari e di volontarie dell'amministrazione comunale, perché organizzare eventi è sempre più difficile, è sempre più costoso, un periodo difficile e promuovere i prodotti della nostra agricoltura che devono competere su questo, sulla qualità, sulla trasformazione, sulla quantità non puoi competere, ma sulla straordinaria qualità dei nostri prodotti sì e quindi poi sui piatti che uniti alla cultura, all'arte fanno grande il Verona e il Veneto. Novità di quest'anno è quella di dedicare dei posti lavorativi a coloro che si trovano disoccupati a casa per dare appunto a loro una postazione, un'idea di quest'anno. Sì, ed è un'idea giusta a visti i tempi, perché appunto siamo in un periodo drammatico, il peggior periodo dal dopoguerra e quindi dare un'attenzione particolare a chi è in difficoltà è giusto e quindi bene ha fatto l'amministrazione e l'organizzazione della fiera a fare questa scelta. Ci siamo ritrovati qui alla ventiquattresima edizione della fiera della Polenta, tante sono le cucine, sono dodici che offrono più di cento piatti, tanti tipi di cibi, ci sono anche cibi per coloro che sono intolleranti al glutine, possiamo accontentare un po' tutti? Sì, sicuramente accontentiamo tutti quanti, qua alla fiera della Polenta abbiamo più di centoquaranta piatti, quindi potete immaginare che vasta scelta, chiunque può venire e scegliere tantissime portate. Ricordiamo che anche il bello della nostra festa è che spesso le persone ritornano, perché non mangiano mai sempre la stessa cosa. Un consiglio a casa, tra le dodici cucine dove andresti? Quale abbinamento con la Polenta? Io consiglio la cucina numero uno, la migliore, perché è la mia, la scala del calcio. Stiamo facendo pubblicità qua, eh? Sì, facciamo pubblicità qua, pubblicità occulta. Però comunque no, ci sono tantissimi piatti, tutte le cucine hanno uno standard altissimo, perché ci teniamo tantissimo e gli facciamo anche dei controlli giustamente perché devono rispettare determinati standard. Direi che è una partecipazione all'entusiasmo di questa bellissima festa. Dopo due anni finalmente si riprende anche a Polenta, che è un elemento innanzitutto quasi culturale, oserei dire per noi veneti, naturalmente un elemento di grande aggregazione e poi soprattutto è buona. Io insomma le adoro in tutte le sue declinazioni. Può essere abbinata a tanti cibi, quasi a tutti, anch'io sono una grande appassionata, devo dire è un prodotto agricolo del nostro territorio. Qual è l'augurio che dà questa ventiquattresima edizione della Fiera della Polenta? L'augurio è che si viva con serenità e grande gioia questo momento di una comunità bella come quella di Vigasio. La Polenta è un prodotto che tutti noi conosciamo, che è sulle tavole da secoli dei nostri concittadini e quindi Vigasio in questo momento si propone di promuovere la Polenta, il mais, e viene servito qui in più di 100 piatti, in 100 piatti diversi, tutti composti con qualcosa di Polenta e questo è un modo per valorizzare e promuovere il nostro territorio. Sappiamo che sono tanti coloro che stanno lavorando per questa fiera, ma ci dica lei, sindaco, quali sono i requisiti importanti per potersi permettere un evento come la ventiquattresima edizione della Fiera della Polenta? Ma requisiti, la verità è che abbiamo più di 12 associazioni che lavorano con i propri volontari e che là dietro nelle cucine preparano questi piatti che poi vengono somministrati alle persone che vogliono conoscere appunto la Polenta. Grazie